vado eh si trasmetti dal vivo 3 2 1 prova prova thruster eccomi eccomi ci sono ci sono ci siamo ciao i live ciao ragazzi come state da quanto tempo che non ci sentiamo mamma mia non faccio una live da tantissimo mi siete mancati tanto tra l'altro guardalo 3 2 1 boom un'ora esatta in questo momento dall'evento da come leggete qui in alto a sinistra beh che dire sono super emozionato fatemi sapere se mi sentite bene e un salutone a tutti ciao Yolanda ciao student 10 ciao arte ciao Daniele ciao Giovanni ciao a tutti e che dire siamo qui tutti quanti insieme e qui vabbè nella lobby vedete anche Lollopollo e Joe perché tra poco ci uniremo anche a loro per partecipare in 4 all'evento finale l'evento finale della stagione anzi del capitolo 2 di fortnite sono super emozionato e che dire nonostante io abbia un po' tralasciato fortnite nelle ultime season come un po' anche thruster l'abbiamo un po' lasciato stare siamo diventati ancora più nabbi però fortnite rimane sempre fortnite e quindi ora che il capitolo 2 è praticamente finito sono troppo curioso troppo curioso un po' spaventato un po' un po' tanto un po' tanto spaventato però sono più curioso di vedere cosa succederà in questo capitolo 3 eh sì 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 non nascondo che mi vorrei innamorare ancora di più di questo gioco quindi speriamo che aggiungeranno cose assurde tra l'altro non so se avete già visto il trailer in polacco perché oggi è uscito il trailer in polacco tu thruster l'hai visto? eh sì 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 l'ho visto l'ho visto cose assurde hanno spoilerato il trailer io ho cercato di guardare il meno possibile anche se non nascondo che qualcosina mi è comparsa anche a me ciao giannitz che c'è sempre non mi abbandona mai ciao fabrizio ciao linda ciao claudio fatemi sapere se siete tutti in hype per questo capitolo 3 di fortnite eh domanda così secca thruster rispondi tu per primo ma potete rispondere anche voi nei commenti ci sarà di nuovo il buco nero? allora secondo me il buco nero no perché non oserebbero di nuovo il buco nero però ci sarà una cosa del genere secondo me una una mezza specie di buco nero diciamo una sospensione grazie a Edo grazie a Edo per la donazione eh sì sicuramente ragazzi ve lo dico anche io ci sarà una sospensione perché perché fortnite sia un po' per creare hype secondo me perché fortnite è birichino lo sapete tutti quanti ma scalzone fortnite però a parte quello deve comunque caricare tutto cioè tutto il nuovo fortnite deve caricare comunque nei server quindi ci vorrà un pochino ci vorrà sicuramente un pochino qui tra l'altro stavo vedendo il bundle geometric con la skin eh quella bella con la testa di cubo così bello c'è lo zainetto che sembra di minecraft tra l'altro non so se ci hai fatto caso però vabbè 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 con la casetta che dire ragazzi l'evento ci sarà tra 57 minuti da come vedete allora io adesso metto pronto così almeno possiamo iniziare e tra poco ci riuniamo con Lollopollo e Joe così ci facciamo ufficialmente in live l'ultima partita del capitolo 2 cioè io ve lo dico penso di aver caricato quanti video ho caricato Traster sul capitolo 2 saranno un 600 550 600 esatto un circa 500 video sul capitolo 2 questo non per vantarmi ovviamente ma per farvi capire quanto per me è emozionante questo momento cioè ragazzi 500 video io che mi siedo così e Mattis si siede cioè arriva così si siede boom avvia ciao a tutti ragazzi sono Mattis per 500 video tra l'altro per questo evento speciale sto indossando anche la felpa Mattis questa col triangolo che per chi se la ricorda beh vuol dire che mi seguite da un po' di anni perché questa è stata la mia prima felpa ufficiale che ho fatto praticamente nell'inizio del 2019 inizio 2019 c'è quanto tempo è passato wow tantissimo mamma mia siamo alla fine del 2021 è finito tipo un 5 come si chiamano 5 anni un lustro un lustro un lustro si chiama lustro un quinquennio ciao lollo tra l'altro bella bella che dire oh comunque c'è da dire una cosa nonostante tutto noi siamo ancora qui mamma mia signori riuniti non so per chi se lo ricorda nel momento di quarantena per quanto fosse stato pesante io lollo e thruster eravamo sempre lì a giocare a pubblicare ogni giorno una challenge assurda in cui prendevamo il boss me e lo portavamo in giro facevamo cose malate praticamente abbiamo fatto tantissimi questa challenge sì sì per me era bellissimo me lo ricordo allora abbiamo anche joe pronto però io non lo sento joe no neanch'io non si è smutato è mutato joe sei mutato joe sei mutato joe sei mutato comunque ragazzi che dire si sentite oh ciao ragazzi ciao si aggiunge pure joe alla festa siamo pronti ufficiale partita finale del capitolo del super capitolo 2 esatto esatto che ansia che ansia non vi nascondo che prima di iniziare la live ho fatto una partita tipo di riscaldamento ah ok ok stai dryardando ok bene bene io ho fatto un riscaldamento in creativa due ore no non è vero mamma mia ci vai ciao ciao non gioco da un mese vabbè ma Traster giochi ancora da telefono oppure no è da mo che non gioco più da telefono hai smesso di giocare da telefono io sono rimasto da mobile da gennaio 2020 ok ciao siamo pronti siamo pronti ciao Sara ciao Veronica ciao Vincenzo ciao ragazzi oh ma questa luce è dorata e dove ci dobbiamo incontrare in teoria in teoria credo che spawneremo lì durante l'evento non so perché mi sono buttato non me lo chiedete fate finta di nulla io vorrei proprio lì dove ci sarà l'evento vai andiamo all'evento andiamo all'evento dai andiamo all'evento ehm Traster mi dovresti fare un favore dimmi 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 guarda la live dimmi se l'audio si sente bene tutto perfettamente bilanciato come direbbe il nostro amico Thanos cioè tipo le nostre voci e cose del genere 53 minuti tutto perfetto capitano tutto perfetto possiamo procedere 53 minuti ragazzi proprio così ah ok ci ho appena grazie edo e grazie gamer per per l'abbonamento ok tuffiamoci che dire vamos ok allora io io ve lo dico mi sono spoilerato di trailer mi sono spoilerato ok ok anch'io io direi di più più che spoilerato ecco infatti infatti devo dare la colpa a una persona in particolare cioè lo lo porto perché no no non è colpa mia io a Traster in realtà ha mandato lui tutti i video dell'evento almeno a me su whatsapp sì ma Traster è un biker Traster è un biker è vero è vero o nemici davanti a noi c'è anche il pro bottone aspetta che faccio fuori questo ottimo ok così dovrebbe non ci posso credere l'ho lasciata uno di vita comunque non so se vedere ma ci sono delle bombe ah sì è vero è vero è vero dove ci sono delle bombe è anche questo qua dentro diciamo questo in questo regà aspettate perché mi hanno sparato una viola io mi muto e urlo eh vai vai io mi muto e urlo vai vai ecco qua fa come questa pensa se gli sparavano un tulipano guarda qua ci sono delle bombe ecco è morto ah ok ma le hanno aggiunte adesso sì le hanno aggiunte qualche giorno fa utilizzate per l'evento qualcosa mi dice ah nel dubbio la rompo così annullo l'evento ah secondo me regà comunque quelle bombe si dovranno essere utilizzate per l'evento però dalla schermata che ci hanno regalato secondo voi queste bombe saranno utili contro quelle 500 navi alieni che abbiamo visto ah ma la schermata di caricamento intendi non so se la schermata di caricamento sarà veritiera no io dico queste bombe che ci sono qui eh credo che l'ordine immaginario le volesse utilizzare per distruggere la regina dei cubi ma credo che la regina dei cubi abbia chiamato i rinforzi dall'alto ok 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 vabbè l'unica cosa di cui abbiamo la conferma è che tutto si distruggerà oggi quindi non c'è proprio non c'è proprio alcun dubbio ora bisogna vedere ma la vogliamo prendere la scheda di gioco oppure la lasciamo morire e urlare si merita di rimanere lì non me ne frega niente ci ha abbandonati così eh ragazzi stai arrivando in me eh io sto scappando infatti io me ne vado no io sto con l'olopolo che mi sembra il più credito certo Paolo che lo so oh ma mia sono troppo forti potremmo fare un po' di materiale potrebbe avere senso ciao Pietro ciao Cristian sì mi sembra una buona strategia thruster scappa ti do questo consiglio non so perché eh sto scappando sono andato a diritto a prendere la scheda di gioco tra l'altro per far venire la lacrimuccia l'olopollo tu ti ricordi la challenge sopravvivere solo nella casetta al centro del lago wow mamma mia e ti dirò una cosa ti dirò una cosa che tu non ti aspetti forse guarda il timer dov'è dov'è guarda sulla mappa il timer dov'è è esattamente qui ok se tu sovrapponi la mappa del capitolo 1 con quella del capitolo 2 il timer è sull'isoletta del lago non ci posso credere è vero top coincidenza quindi mi stai dicendo che fortnite ha visto la nostra challenge ovvio e quindi ti ha detto siccome noi due facciamo una live o no una granada vi ha spiato vi ha spiato vabbè cioè questo non si è letteralmente mosso ok comunque io ho lisciato la maggior parte dei colpi scappa scappa vatti scappa 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 che sta succedendo eh guarda dietro ciao ciao amico mio scappate raga no no ok ok no no non hanno capito questi non hanno capito con chi ha neanche a fare noi siamo siamo noi noi siamo morti ma non ti so ok ciao giuli grazie ciao vedo ancora grazie eh ma mi insegue mamma mia è pazzo pazzo giocatore pazzo player lo ha hitato eh hita hita oh no oh no oh no oh no ma ti è sceso ma ti è sceso come è sceso eh io sto pronto a riavviare il gioco ah ok ma ti è sceso dal robot arrivo arrivo eh risali ah no ci sei ci sei tu eh ma non aspetta aspetta non ho capito bene che è successo in realtà vai vai bravissimo l'holopollo time mamma mia sono diventato un problema e ti ho detto io mi sono allenato in creativa tu non mi credevi eh si vede si vede secondo me hai fatto una bella death run e quella ti ha svolta tutto assolutamente ok beh che dire ma la vogliamo fare una vittoria reale così finale senza l'ultima vittoria reale del del capitolo beh sarebbe sarebbe incredibile eh che dite ragazzi la volete chi è no l'ho fatto esplodere io ma volete ragazzi una vittoria reale così finale senza neanche pensarci troppo mamma mia sarebbe da pazzi uh ok sarebbe da sparare la viola come direbbe Joe eh sì è vero è vero è vero ma non hanno il coraggio allora ci riuniamo a quei due nabetti sì sì andiamo andiamo e magari e io non sono un nabetto parla per te mh leggo dei sium in chat raga ci sono dei sium sono carichi sono molto carichi allora io voglio fare una domanda alla chat a tutte le chat di qualsiasi attiva in questo momento qual è la season di questo capitolo 2 che vi è piaciuta di più bella domanda bella domanda io farei iniziare a rispondere thruster vai allora thruster la mia penso quella con un po' di tutti forse eh lo so la stagione 2 del capitolo di questo capitolo esatto probabile cioè ragazzi quanto tempo è passato è passato più di un anno è passato è passato quasi due anni quasi due anni dalla stagione 2 inspiegabile inspiegabile non so io cosa ho fatto durante tutto questo tempo eh vabbè abbiamo giocato a fortnite matti su via ah giusto hai ragione scusami e comunque si sinceramente anche io anche io oh nemici ok nemici regà ok no nemici ma si ma sono un hub e li uccidiamo subito dove sono? si vorrei fare una kill quanti a noi probabilmente si eccoli 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 confermo il fatto che siano un hub ma io lo sono ancora di più no mi è esploso tutto eh sono troppi aspetta aspetta andiamo via ti prendo io via tocca via bambino hanno cose che esplodono pericolose ok eh sì per andarci o no granate ok ah si o no granate ok 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 oh c'è l'abbiamo fatta oppure uno scelgino per te matti tieni beh questa era ciò ciò che mi serviva grazie per rispondere un po' tutti direi che la modalità ragazzi ve lo dico io esce alle 21 e 25 quindi tra qualche minuto eh sì fermi fermi un attimo fermi un attimo vai non so se hai visto una certa tempesta vai ottimo bello tempesta è relativa ecco ora dico vabbè oh no abbiamo perso vita praticamente qui ci moriamo morte dalla tempesta guarda l'ultima cosa che voglio fare in questo capitolo 2 cioè mi sarei immaginato di tutto ma non c'è gente che spara davanti davanti eccolo ok bello vabbè colpito colpito credo sia un piccolo bot eh ma ce ne sono altri colpa mia sono due uno ucciso bene 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 let's go che fenomeni botte giocano con i bot ah ma mi potete dare qualche colpo qualcoso non lo so ah qua ci sono dei dei kunai se vieni qui ti do qualche colpo qualche kunai dammi qualche kunai in testa ok andiamo vamonos la safe è lont no vabbè va bene anche troppo dai sta a vedere che facciamo vittoria reale ma arriviamo tardi per l'evento per fare la no dai non penso ciao leonardo ciao mary ciao claudio ciao luigi tutti comunque a me stanno rispondendo molti si sono due molti si sono due si si è la migliore e qualche si sono anche quattro secondo me ok si si è vero la quattro è quella del quella con i supereroi tanta roba anche quella la si sono due è quella con acqua man raga no la si sono due è quella con no quella è la tre cavolo che pazzo la si sono tre è quella con acqua man invece hai visto di una season dai ci può stare ah è quasi dai c'è In quella che abbiamo adesso sì Non c'è una foresta vera e propria In quella che avremmo adesso sì Poi che altro c'è? Beh più che altro c'è Una cosa che assomiglia a Pinnacoli Cioè la città di Spider-Man Magari potremmo considerarla Come una nuova Pinnacoli vediamo Sì 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 anche la città nel deserto Molto carina Ci dovrebbe essere la città di Spider-Man Tipo qualcosa che penso legato al fumetto Ah no al fumetto al giornale di Spider-Man Non mi ricordo come si chiama Sì 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 daily qualcosa Vedremo comunque nella season 2 Ma avete pure voi? No però Penso che loro ne abbiano Fai rampino Eccolo Oh no da dietro Tra serone se medianimi Ti dono un euro Anche se non sei live Da me? Tanto non ci vede nessuno Non ci vede nessuno No ma si sta vicino Non è vero? Sì non è vero Ok 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 No L'avevo quasi rubato L'avevo quasi rubato L'avevo quasi rubato Mi chiamo lollo pollo No io devo andare Non morire lollo No no raga sono io Ci sono due amici qua Due amici qua Veloce? Ci sono ragazzi Ci sono scusate Sì erano quelli che stavano da me eccolo è salito ragazzi ho due colpi e ve lo dico in tato 7 proprio io ho fatto male o no davanti a me no transfer lollo stai attento che è raga sono morto sono morto tantissimo guindarla a me a me è finita male ve lo dico io sono finito male legato rega non capisco e non penso io posso fare tutto vai vai lollo fagli vedere chi sei se solo mi prendesse i fucili potrebbe essere una bella cosa è qui dentro non so modificare no bene bene la faccio tanto bene tanti bene oddio chi manca la scheda rega non so se ce la faccio manca a meggio provo regalo tutti o nessuno l'importante che sopravvivi o tutti o nessuno ok scherzo fai quello che vuoi no no solo una non ho presa è gioco rip adesso la fortuna è passare qua e trovare delle banane dentro no niente banale vai 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 corri 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 oh no oh no oh no oh sì oddio rega ma io pazzo prende 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 rega ragazzi questa cosa con di parte con calma con calma con calma con calma deve essere la vittoria rega deve essere essere si ce la devi fare ce la devi fare lollo tu già 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 lo sai che ce la puoi fare sono carico sono carico posso farcela già lo sapete rega già lo sapete no adesso arriva il dinosauro e mi uccide no è già successo troppe volte non vorrei riprovare l'esperienza ma avete visto tra l'altro il dinosauro quello viola quello gigante quello viola gigantesco che fa paura ma cosa farà quel dinosauro secondo me potrebbe essere cavalcabile a questo punto mamma mia è un trattore gigante e questi costi che non ci del pollo aia e questo è un chiaro dissing per lollo pollo è lucido arriverà qualcuno che si chiamerà lupo e farà la kill a lollo pollo tra poco no nemici ok sì sì amici davanti a me rega è brutta portaci in vittoria reale oppure riavviaci c'è arrivare al furgoncino hai ragione ci provo ci provo ci posso ci possono riuscire esatto esatto questa cosa mi farà andare più veloce secondo me no ho visto un colpo che mi arrivava molto vicino eh sì qui è pieno di nemici lollo devi stare molto non devo prendere neanche uno di danno della safe devo fare una cosa del genere esatto ragazzi oh no eccolo eccolo lo lo sapevo quello che conosco ai limiti della fisica si prende il gioco della tempesta adesso toglie 5 io non arrivo lì e muoio è stato bellissimo gg ragazzi è stata una bella partita sono morto oh come se fosse un nemico ce l'hai fatta bravo lollo ce l'ho fatta aspetta manca il timer del riavvia aspetta ragazzi si rientra in gioco ve lo giuro vinco vinco dai eh ora o mai più ora o mai più allora ma io non so se ti ricordi però lollo con questa giocata da pro gamer mi ricordo un fatto ti ricordi quando abbiamo fatto con rasco cap e gli altri squid game degli youtubers quando era arrivato in finale si è vero hai ragione proprio eh ma sai che non me lo ricordavo ragazzi qualcuno ha no non potete avere colpo venite in macchina venite in macchina sarebbe interessante prendere un'arma aspetta prendo la mitraglietta qui rischio così eh sì dai ma per una mitraglietta ok 10 di vita 15 di vita persi per una mitraglietta ma forse ne valsa la pena va bene così va bene così ok e adesso ragazzi non lo so non lo so cosa dobbiamo fare eh si campera 4 contro 3 ah no c'è giù ancora no giù siamo 4 contro 3 noi ah oh oh cavolo colpi il razzo rega qualcuno eh ti vorrei ricordare che io tra te siamo appena spawnati mamma mia è pieno di armi questo posto comunque molto interessante si si ma davvero eh davvero è comparsa la modalità si rega è comparsa due minuti fa ok ok ci siamo la tempesta di nuovo ok ma questa volta oh ricarica ricarica loot buono ok cioè in realtà è un medikit è loot buono va bene così giusto giusto oh io non so non so che cosa fare ragazzi prendo la cassetta di munizioni perché più di quello oh qua c'è un pompa è uno scendito se volete ah c'è un amico? chi l'ha costruito? io io pompa qua rega e mitraglietta arrivo 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 state molto veloci oh corri 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 no il medikit mi si è annullato scusa eh vabbè arrivo me lo faccio ok penso sono qui sotto i nemici ecco lì ragazzi sono i nemici non gli sparare non gli sparare mai nella vita fermo no non penso mamma mia che paura eh c'è la paura il falò rega il falò vai 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 facciamolo che ci serve a tutti c'è un nemico molto più vicino di quello che pensavo si 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 pusha 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 rega è dura ma non così dura chi sta tirando granate? io eh si ok mi ha fatto spaventare un pochino occhio rega vincetela per favore si si è lì ma non ci stanno pusha con le jump o tutto eh vabbè ma sono ovunque eh si eh si oh bello lollo signori ho trovato uno scudo da 50 rega rega una piccola mano non sarebbe arrivo dai eh che ansia ragazzi oh bello matti bel hit dov'è? c'è sopra aia aia gg 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 come macchina bella bella vabbè è stato divertente fino a che è durato no? c'è ancora lollo non perdiamo uuuuuh zitti tutto bello ah si non so costruire piano piano vai io lollo ma rega ma sono tre ma che posso fare? scusate ma costruisci all'invito ma muoio da safe gg ho sei di vita non puoi volare vero? vai avanti tu vai avanti vai avanti pregatene bello lollo bello così così sopra 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 bravo è un pazzo pollo questo pazzo furioso mamma mia ragazzi che paura no way signori no no signori no mi ha ucciso raga mi ha ucciso un gogongo non ci credo ne può fare io pensavo ti facesse fuori un pollo invece eh si un pollo un lupo invece niente è iniziato l'evento come è iniziato l'evento dicono che è uscita la modalità raga ah ritorniamo alla lobby? eh si 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 bravo che io non so 3 year down scusate bravo bravo hai fatto comunque una buona mossa però sono arrivato al livello 102 questa cosa è 10 10 10 la battaglia ricevute ok raga modalità 10 è iniziata da iniziamo è uscita è uscita ma come chi è il capo? vai lollo vai tu stai zitto scusate mi stanno insultando in chat ahia di sing di così però no figura di se vincere va bene ok mettiamo pronto mamma mia ragazzi che paura mamma mia che paura sono davvero ansioso per questo aspetate metto un audio che ci caricherà tutti che vuol dire eh tranquilli tranquilli adesso lo scoprirete pronti ragazzi vai 3 2 1 ok a posto ok let's go vai vai raga belle cari di tutti quanti ciao ricky ciao giusto ci sarà il buco nero eh raga molto probabile le skin e se il buco nero regà non fosse nero ma tipo arancione thruster tutte le skin troppo tardi eh troppo tardi ah io io vi propongo una cosa se c'è il buco nero lo lo pollo resta in live fino a domani mattina non ho non credo di aver capito bene la proposta cioè nel senso se c'è il buco nero cioè se mettono il buco nero quindi non cioè qualsiasi animazione riconduca al buco nero in un certo senso tu resti live fino a domani mattina oh che è questa cosa raga ragazzi ma che cosa sta succedendo oh oh un cubo è spawnato il cubo blu raga è spawnato il cubo blu ma l'ho vista si l'ho vista l'ho vista ragazzi ragazzi è spawnato il cubo blu ma cosa si molti potete da sporti là in mezzo alla piramide si è tipo alterrato è già iniziato un evento praticamente è spawnato il cubo blu e io sono spawnato vicino al cubo blu eh siamo tutti qui in realtà ecco e ora ok scusate ciao come va vogliamo fare un balletto intanto così io posso cantare una canzone regate da scudo rega cosa ne pensate di questa ciao matti cosa ne pensate di questa modalità insomma fino ad adesso è stata è stata particolare non c'è niente ma è molto bello esatto non c'è niente però fa il suo il cubo ci respinge ma allora lollo visto che tu tanto sei il pro di questo gioco cioè dimmi un po' questo cubo blu cosa rappresenta perché io non lo so allora il bene ti dico la mia teoria adesso è una teoria un po' pazza lo so non sarà mai così però il cubo blu è uscito dalla nave madre ok della scorsa season la nave madre ha in qualche modo distrutto nella season ancora prima una sorta di torre che conteneva il punto zero con fondazione ok fondazione è dentro al cubo si così a caso dentro al cubo fondazione bella teoria perché perché c'è un leak che dice che fondazione parlerà durante questo evento quindi in teoria da qualche parte parlerà quindi dici proprio parlerà ok 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 va bene 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 ho questa impressione ho questa impressione che da un momento all'altro fondazione esca dal cubo e dica sono The Rock finito l'evento The Rock? povero si così io sono The Rock esatto l'evento finisce per tutti quelli che stai provando a salire sul cubo? si per tutti quelli che mi chiedono dove è Nina beh diciamo che Nina non era la persona più interessata del mondo a questo evento di Fortnite ecco però magari chi lo sa sarà una comparsa esatto magari con un mi piace in questo momento ma ma si però sono troppo in hype eh regà sono in stripe anch'io credo tutti quanti qui nella lobby comunque si è creata la tipo un un'area di cubo cioè una barriera una barriera eccolo eh regà ce l'ho ce l'hai ce l'ho c'è la teoria pazza sì sì teoria pazza questa roba blu ci proteggerà dalla distruzione della mappa e noi vedremo tutto da qua dici? secondo me sì cioè noi vedremo gli alieni che arriveranno distruggere una mappa il flip della mappa il flip della mappa lo vedremo lo vedremo dopo forse ah io la mia teoria conoscendo fortnite il flip della mappa noi lo vedremo fluttuando nell'universo sì sì proprio proprio così senza secondo me ci saranno tante fasi la prima sarà fondazione che parla insieme a jonesy la seconda fase sarà una cinematica quindi una ripresa ok poi ci sarà la distruzione da parte della regina dei cubi inizierà a fare qualcosa inizieranno gli attacchi alieni che distruggono tutto boom noi sbalziamo via proprio sbalzato io dalla mappa e poi compare Joe su una montagna che balla canzoni spagnole in bikini potrebbe succedere non è non è scont... cioè non è non è non so come si dice ma non è non è è o non è essere o non essere non è improbabile ok ok va bene ma di preciso no? sì le ci stava a fondazione no? che durante l'evento quando è arrivata la fondazione col meteorite no? sì diceva le tre sorelle no le due sorelle e Geno oh me lo ricordo ma è passato un sacco da un sacco di tempo questa cosa chi è Geno e chi sono le due sorelle? e che ne sappiamo boh le due sorelle forse tipo la sorella quella come si chiama quella riccia la dottoressa Sloan no dottoressa Sloan no non credo dai boh ragazzi non ne ho idea so solo che mancano 28 minuti e io sinceramente non riesco più ad aspettare non riesco più ad aspettare facciamo delle teorie quasi quasi ah aspettate vi dico una cosa che probabilmente in pochi sanno io nel dubbio io nel dubbio lancio come si dice lancio un come si chiama? guardate una cosa guardate rega un messaggio subliminale lancio ok però non è non è vocale è solo visivo guarda 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 matti 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 aspetta ho trovato il glitch assurdo della vita dove siete? dimmi io sto facendo il messaggio subliminale dove siete rega? dimmi ecco mi sto dire ok l'ho fatto link in descrizione dicevate? vieni vieni matti dove sei? vieni uscire al cubo io vedo un pollo quindi la probabilità che sia tu è alta sì 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 ok se tu fai un qualsiasi balletto vedi quello scar lo scar? io ho uno scar in mano in questo momento se fai l'emote del saluto è vero ok quello scar ci servirà per combattere contro dei nemici che probabilmente saranno i custodi ora tu mi devi dire come fai a sapere questa cosa no no lo voglio sapere perché perché sono un pazzo e ti dirò di più oltre allo scar avremo anche una revolver una revolver esatto ma io non ce l'ho il legge Mario e la revolver la revolver ho sbagliato saluto io aspetta ho sbagliato saluto quello normale perché non ho il pizzo perché ho tutti i saluti stra ma non ci posso credere mi sono salutato in qualsiasi modo ma non ho quello normale eh non ne ho idea lo devi shoppare eh ma non posso shopparla adesso non so se te ne sei accorto ma siamo dentro l'evento finale del capitolo 2 di Fortnite non è questo no aspetta forse ce l'ho è questo eccolo no vittorio è vero che prima abbiamo avvicinato purtroppo dai lollo rilassati su non c'è problema fai come me devo trovare il balletto aspetta oh sì però io canto comunque una canzone perché c'è poca armonia gioviare a cantare preparazione del guerriero ma che parla di te dove sono sono accanto al cubo ecco di ecco di io suono e tu canti ci direi a sottolineare una cosa capitolo capitolo 2 di Fortnite esce nel 2019 fine ottobre 2019 tutto incredibile video su video eventi su eventi cose serie su serie su serie su serie mancano esattamente 25 minuti ed ecco cosa stiamo facendo noi io non pensavo che sarebbe finito così il capitolo 2 pensavo tipo cose estreme fuochi d'artificio non qualcuno che gioca con me lolo lolo aspetta aspetta ho sbagliato il tasto eccolo non me lo fa non posso non si può va bene voi non siete veri amici voi non siete veri amici rica 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 secondo me tra 28 secondi comparirà il primo messaggio audio ok bene bene ragazzi potrebbe essere fake chiedere un'informazione voi che siete tutti esperti sì allora stanno dicendo tutti ma dopo l'evento si potrà giocare o dovremmo aspettare 4 mila giorni no no potremmo giocare subito gioco subito sì sì non ci sarà buco nero quindi lollo sì sì no non ci sarà no ah ok mi sembra che tu mi prende in giro non so no ok meno male grazie da cosa ti hai capito e quindi ci sarà un'attesa mio piccolo Joe mi dispiace per te ah sì ah non si sa di quanto boh speriamo poco perché io sinceramente voglio aspettare il buco nero come l'altra volta non ce l'ho proprio ma 0 0 0 0 ci saranno 48 ore da aspettare 48 ore dici no dai 24 24 che poi non saranno 24 ma saranno tipo non domani mattina ma dopo domani mattina eh eh sì anch'io anch'io lo penso esce alle 10 il nuovo capitolo diciamo 36 ore dove ci saranno 36 ore di inattività ok vediamo un po' vediamo un po' io sto cercando segreti intanto qui nella mappa ma ovviamente non trovo niente c'è una torretta però ci si può sapere? no sono più di una torretta sì matti ho trovato un segreto vieni qua dove sei? dove sei? devi venire qui matti per favore anche tu tu sei un ragazzo pazzo un pazzo ragazzo dove sei? dove sei? esatto come faccio a capire voi dove siete? facciamo prima ok vi vedo ciao matti eccoci allora pure lolle e trassero ho bisogno della vostra presentazione sono un traster ma non so dove siete voi venite venite siamo qui qui dove? qui come lo spiego qui? accanto al cubo c'è un cubo gigante ah ok non l'avevo ancora visto ok ho scoperto un segreto ok che segreto? che segreto? sì mi dovete ascoltare con quale tasto saltate voi? con lo spazio 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 ok con x ok allora io ho scoperto una cosa che se voi premete spazio e tu matti premix saltate non ci credo non ci credo cioè tre anni quattro cinque anni che giocamo matti e non ce ne siamo mai accorti fuori di testa guarda lollo sono un coriglio saltare questa testa sta diventando un po' stressante forse ragazzi facciamo partire gli spam in chat iniziamo dai oh guarda questi tre oh lo faccio anch'io di qua ma io non ce l'ho eh neanche io mi so aspetta aspetta io metto vogliamo far partire lo spam in chat intanto raga lo spam di addio mappa del capitolo 2 sì dai ragazzi di tutte le live del mondo addio capitolo 2 così prendi la torta lollo prendi la mia torta eh non hanno sta per spazio matti non è una torta oh scusa non era la mia intenzione ma queste cose dorate te le hai viste davanti a noi queste cose dorate credo siano comparse adesso sono sembrano gli spawn degli zombie o sbaglio cioè tipo simili a quelli degli zombie sì sì però fatti tutti a cubi d'oro eh 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 questa cosa è da tenere a mente mamma mia quanti addio capitolo 2 mi stanno uscendo in chat mamma mia aiuto che paura quanti siete ragazzi bellissimo siamo tantissimi devo essere sincero siamo quasi 2000 in live momento momento emozionante devo devo dirvi una cosa eh vai mi siete mancati mi siete mancati eh lo so devo essere sincero mi siete mancati sono molto emozionato e mi mancava fare una cosa del genere con tutti quanti voi che ci fate compagnia con questi eventi super speciali di fortnite no ragazzi non arriverà il capitolo 4 cioè non scrivete addio capitolo 3 mi mancherà cioè deve arrivare ancora ah siamo agli tempo addio capitolo 3 ora si scopre che il capitolo 3 durerà una season proprio così e basta una season e basta mamma mia che facciamo ci prendiamo un gelato beh raccontiamo una storiera si rispondiamo a qualche domanda anche dai cosa che ti faccio oggi oggi beh cioè io ho aspettato il capitolo 3 non so voi io pure diciamo ah beh ci sta no io ero senza cuffia quindi non ho sentito nulla di tutto quello che avete detto che fate a capodanno aspetta che mi ritolgo le cuffie non ho capito no mi ritolgo le cuffie per far finta di non sentire la tua domanda ok tra un minuto ci sarà qualcosa di volare ah raga vediamo se adesso ci sarà a 20 minuti cosa cosa vieni venite venite qui 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 ma ti sali di qua di qua di qua di dall'altra parte di qua qui ma cioè cinque secondi quattro secondi ma cosa deve succedere messaggio vocale no no niente ragazzi è un passo allarme niente perché sono andati là no perché c'è la radiolina lo vedi laggiù come nell'evento della slon thruster ti ricordi cosa c'è c'è la radiolina lì sopra l'antenna da dove esce il messaggio ah è uscito da un suono da lì vabbè magari non è 19 minuti non è 20 ti ricordi thruster quando era nello scorso evento io mi ricordo tipo 15 minuti forse era 8 ma in realtà ci stavano tanti messaggi eh io mi ricordavo a 15 10 e 5 però non so sicuro vabbè controlliamo lollo matti vi posso dire una cosa dici tutto gioco quello che vuoi esatto se per caso c'è fortnite bloccato per due giorni che contenuti di fortnite si possono portare potresti fare un video in cui guardi il buco nero per 24 ore è vero ok grazie magari provi a oppure fai un viaggio si vai ok proprio dove stanno gli sviluppatori di epic games e attivitui il capitolo 3 in anticipo si ok però si potrei anche farlo però non penso che fanno partire il capitolo 3 in anticipo solo perché ci vado io ma si ma basta che premi un bottone rosso cioè hanno il bottone rosso del capitolo 3 solo che nessuno ha voglia di premerlo capito è per quello che non parte uh e allora ci vado io scusami dov'è che sono questi sviluppatori eh non me lo ricordo dov'è che sta l'epic games penso alla semi con valle o a vancouver da quelle parti in là ah ok ah vancouver è indietro casa mia sarà un bel viaggetto sarà un bel viaggetto 18 minuti ci sono delle torrette ci dicono quale torrette raga questa è qui per sparare si eh sì in effetti mi saluti ciao vincenzo ciao ciao giuseppe ciao denis ciao pasquale ciao ragazzi io vado a vedere un attimo da vicino quei quei cosi gialli vado a capire perché sono vai vengo con te ragazzi il fiume ragazzi il fiume non c'è più ma non c'è il fiume non c'è più l'acqua si è prosciugato e non ne esco una donata questo potrebbe dire che la mappa sta già in alto è una mappa senza acqua no eh ma si sta già fluttuando e quindi l'acqua è cascata tipo dai bordi dici ma hai fatto no in realtà no ah secondo me questi cubi sono pericolosi sì probabile c'entrerà qualcosa eh questi cubi saranno quelli che esponeranno i mostri che dovremmo uccidere spero ma quindi tu dici che interagiremo proprio interagiremo e se muori e puoi morire eh no no non ci provate neanche io non moro io non però credo che si risponi istantaneamente da quello che si dice ok e beh mi sembra anche giusto sinceramente eh mi sembra ma vi immaginate mettevano proprio come dei pazzi evento in cui se perdevi eh non si attivava il capitolo così non finiva niente eh sicuramente avremmo perso sicuro proprio con la fortuna che abbiamo addio capitolo 3 ma no ragazzi perché scrivete addio capitolo 3 è addio capitolo 2 ora finisce il 2 finisce oh fa questo sedici minuti eh ho venuto a paura sedici minuti se avete qualche domanda da farci fatela ora o tacciate per sempre esatto mi sono fermato perché non ricordavo il verbo non è no non credo che come l'ho detto io sia giusto no ragazzi non è mattiz è masklix io sono ma 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 schicks ehm matti la rec e vado un attimo a prendere una cosa si arrivo subito quasi quasi l'attivo ora per non rischiare io per non rischiare la memoria piena l'attivo un po' no vabbè dai manca dici vabbè ricordamelo dopo trustrix jingle bell ah comunque attenzione perché potrebbe essere un capitolo 1 molto più si un capitolo 1 una season 1 molto più interessante dell'altra volta lo sai perché lollo vero 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 perché siamo a dicembre cioè praticamente il capitolo 1 inizia eh si vabbè con questo capitolo la season 1 inizia e c'è già ultra mega hype se ci pensi esatto e in più cioè manco il tempo di iniziare che è natale eh no ti dirò di più neanche il tempo di iniziare dopo una settimana ci sarà un aggiornamento eccolo lì eh sì eh sì 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 giornalmente ci sarà 8 7 6 ecco il messaggio 6 che vuol dire ancora me lo sento me lo sento il messaggio voglio la fondazione vai messaggio 15 1 0 niente messaggi no 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 non ci siamo mi è partita la sveglia che paura mi è partita la sveglia sul telefono mi sono spaventato tantissimo ho detto fortnite è uscito dal mio schermo ecco ecco a posto pure a me oh regà una cosa se io vi invio un messaggio su whatsapp cioè è come se se partisse cioè come se arrivasse un messaggio sì non ho capito sì cioè appena arriva 10 minuti contati io vi invio un messaggio su whatsapp 10 minuti è uscito il messaggio vabbè l'ho capito adesso no era bello sì sì però l'ho capito grazie grazie morov scrive perché c'è un bunker in questo spazio lollo tu che sai tutto che significa allora io che so tutto il bunker lo hanno lo hanno lo hanno scoperto i pezzi della nave che sono caduti credo sia abbastanza casuale come cioè non ah praticamente si intende questo bunker sì sì non credo che serva qualcosa ok ok tra l'altro morov la prossima volta non gli rispondere perché è quello che ha detto prima è normale che lollo non vince ma andiamo avanti ok allora è il mio preferito ciao Lorenzo ciao Alessandro ciao Filippo ciao Asia 15 minuti ufficiale 13 mamma mamma mia mamma cioè pensate che si riduce tutto a que cioè due anni due anni di gioco si riducono a questo momento due anni cioè due anni lollo che io e te con Traster e Joe apriamo Fortnite ogni giorno per giocare e farci umiliare perché siamo dei nabbi è tutto finito io soprattutto e soprattutto Traster esatto mamma mia ragazzi mamma mia che emozione wow wow ma guarda mangio una pizza perché non so che dire davvero non so che dire si mangio una pizza perché proprio ma guarda io ti faccio compagnia quasi quasi mangiamoci una bella pizza mi sta andando a salire l'ansia quando vedete che bevo l'acqua vuol dire che che mi bevo l'acqua io ho sfutato mezza borraccia da un litro è pure io in 15 minuti ciao ragazzi siamo appena arrivati a 2000 persone un bacione a tutti quanti vi ringrazio grazie per seguirci e tenetevi pronti perché questo quartetto che sentite qui l'olopolo Trasterino e Joe potrebbe essere un quartetto che nel nel capitolo 3 vi farà sognare non dico altro non dico altro wow sì a parte Traster che vabbè rispetto a noi va ancora a scuola però vabbè sono dettagli ragazzi io sto imitando il ballo nella live il ballo se siete uomini lo fate anche voi ok basta aspetta allora Lollo imitami lo lo imitami questo no non adesso questo di solito lo faccio quando mi alzo la mattina però adesso domani mattina se vuoi mi sembra un po' troppo difficile direi che basta così leggermente più facile ehi ehi ma giochiamo a sasso carta forbice l'ultima volta che lo abbiamo fatto che cos'è successo oddio non mi ricordo abbiamo mai giocato a sasso carta forbice su squid game sono morto a caso l'ultima volta sono morto a caso non voglio aspetta tanto non la trovo nemmeno ma io oggi sei un ballerino no tu rifai il balletto vediamo la cerco anch'io ma ma in live visto che bravo non c'è più no non la troveremo mai in tempo non la troveremo passeranno 13 minuti e ci perderemo il capitolo solo cercando questo quanto tempo manca per il ah io l'ho trovata quanto tempo manca per il timer eh siamo 11 ragazzi dai tra un minuto potrebbe comprare questo famosissimo messaggio di fondazione allora ho rotto le scatole esatto prepara in vero un messaggio su whatsapp l'hanno annunciato l'hanno non lo fanno non fare niente poverino fondazione vabbè sarà un'attesa lunga ancora mamma mia questi 10 minuti sono particolarmente stressanti eh particolarmente stressanti io mi sono seduto a guardare fai bene fai bene bisogna riposarsi prima del puro pupù dell'evento ma che senso riposarsi si ti devi riposare è vero è vero ok se non sei stanco poi magari esatto ok mamma mia che paura penso se crasha tutto forse non è successo durante il buco nero vero a me è successo ah io io eh vabbè niente c'è nel senso ho una cosa che mi sto tenendo dentro dall'inizio della live che non ho ancora detto ma non lo dico fino a quando non finisce l'evento ecco oh eh eh hai sentito oh oh ci sono attivati i cosi gialli i cosi gialli si sono attivati che chi ci spara ci sono gli zombie ecco lì è ufficialmente iniziato l'evento mi sa che sta cominciando è tipo un mini riscaldamento a tutto ciò che che vedremo mi sa sarà un gran casino è già finito è già finito è già finito vabbè io ragazzi lascio sparare voi perché sinceramente non ho ah si io guardo thruster che spara non mi interessa allena ti allena la mira che ne hai bisogno thruster hai thruster questo è un dissing no ma possiamo pure scendere per fettarli di presenza guardate qui ma ci vuole costruire oh no non spiegate i materiali ragazzi ah ne abbiamo 100 limitati sono ah no no spera no riga rigrescono sono infiniti sono infiniti comunque non vorrei dire niente ma lollo aveva indovinato è revolver è vero bravo lollo sì sì lollo pollo non trassa scusate non l'ho detto solo prima ma l'ho detto anche tipo un mese e mezzo sì ok io non ho sentito nulla non pensavo questa revolver cioè quella classica quella originale però l'ho fatta pure vedere sì però non pensavo questa un mese fa ma questi zombie camminano ma non colpiscono mi sa di no scusa lasciamone uno vivo vediamo cosa fa mi dice che non mi può collegare al matchmaking è l'ora che sei arrivato troppo tardi mi sa guarda di là mi entrare prima no no ditta non tolgono 20 ok adesso thruster si sacrifica e vediamo che succede ok thruster aspetta voglio vederti no no aspetta aspetta anch'io non pensavo che l'avresti fatto davvero eccolo no io sono combina eccolo thruster che si sacrifica no qualcuno è venuto a salvarti è morto thruster non si può curare ah sì si può rianimare no non lo rianimate voglio vedere ciao thruster no no ma secondo me lo posso buttare fuori dalla mappa sopra il cubo eh no è impossibile no dai non rischiamo non rischiamo thruster ma è magico thruster ma si è rianimato solo per quanto è fuori ti si è rianimato wow ragazzi buttiamo giù questi sono in versione avanzata sono un thruster avanzato inaspettato completamente ah 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 prova uno due tre uh che ansia che ansia che ansia che ansia questo evento mancano sette minuti sette minuti mamma mia mamma mia mamma mia vabbè sette minuti devo fare un altro messaggio messaggio nascosto incredibile io lo so questa cosa non la potrei fare ma la faccio pure in live eh questo è spoilerone questo è spoilerone eh vabbè basta sei minuti raga copia autografata sul nostro sito ninemati.it oppure in qualsiasi libreria se non l'avete ancora non meritate di giocare alla nuova season eh l'ho detto l'ho detto ragazzi io sto sul cubo non è vero pensavo di stare sul cubo e invece mi hanno trovato forza roma che ha perso con l'inter eh confermo aip perché spoileri ma non ho spoilerato niente io ho spoilerato tutto c'è il lollopollo che sul suo canale ha fatto vedere il capitolo 4 e dite a me l'ho pollo praticamente sta progettando il capitolo 4 non è che il fatto che non si può salire sul cubo secondo me vuol dire che esce qualcosa o fa qualcosa per farci ricordati cosa c'era scritto nella schermata di caricamento lollo si si arriverà dall'alto l'attacco arriverà dall'alto iniziamo a guardare un po' in giro per vedere dici che succede qualcosa no matti tu non hai capito se tu vieni qui mi hai rotto la scala non ci credo ma si rigenera si rigenera il materiale eh sì sì ogni eternità però sì ok ok grazie grazie ok lollo io sono da te cosa dovrei fare vedo la mappa più alta cioè nel senso lì giù mi so si vede col mare o sbaglio ragazzi ragazzi venite da me allora venite da me dove sei dove sei dove sei qua in alto qua ok avete sentito l'esplosione sì stiamo sentendo un attimo qualcosa guarda il telescopio eh uh guarda dentro il telescopio mettete tipo qua non mi dire che si vede che cosa si vede no dentro non dentro là dentro d'acqua davanti oh mio dio raga guarda nel telescopio no questo è da clip ragazzi se vi state prendendo in giro mi arrabbio no non è vero mettete qua 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 giusto io e guarda dentro girato così guarda dentro l'occhio del telescopio c'è nulla dentro al telescopio thruster non è vero ti mando una foto su whatsapp aspetta stanno prendendo in giro no non si vede non si vede aspetta c'è nulla no 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 devo spostare la webcam forse non avete comunque raga il rack a chi serve sì grazie guardate ragazzi il telescopio dentro l'avete visto e che cos'è un'astronave è vero è una nuova dimensione ah dici vero dentro al telescopio ok risposto tutto mamma mia se l'avete visto bene è una nuova dimensione piena di navicelle è una nuova dimensione piena di navicelle sono pianeti nuova sono navicelle viste dal basso ragazzi navicelle non è uguale alla schermata ve lo posso garantire esatto ma non è che in cielo si inizia a intravedere si sta avvicinando qualcuno secondo me c'è questa musica che mette troppa ansia sì ma infatti adesso alzano c'è un altro telescopio andiamolo a vedere di qua di qua fino a 5 non c'è nulla fino alle 10 e 5 fino alle 10 e 5 eh vabbè stanno iniziando a preparare tutte queste cosine ragazzi io vi ho visto un altro delle scopi vado ci provo vado a vedere che c'è secondo me c'è la stessa cosa dove sei l'arricchina dei cubi dire ok andiamo 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 si stessa cosa stessa cosa ma invertita tipo c'è la piramide mancano tre minuti esatti tre minuti tre minuti esatti grazie per il 2 euro c'è stato un altro ancora non mi vedrai l'evento vabbè non credo sia proprio così però grazie di muovere il 2 euro non si vede niente ah no si ah ma qua si vede benissimo in questo si vede bene ma c'ho sempre la web aspettate ragazzi vi levo la webcam wow guardate c'è la piramide tipo attiva ragazzi ho buggato tutto c'è questi numeri sulle casse no no ragazzi fermi se voi guardate il telescopio e poi andate un po' in basso a sinistra ah forse il mio zainetto però non lo so c'è un vortice verde guardate la mia live si lo so ma è il tuo zainetto è il mio zainetto ma è stranissimo ok ok eh si ragazzi vi ho trollati siccome è una nuova dimensione se succede qualcosa le navi devono arrivare adesso le navi iniziano ad arrivare adesso no 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 inizierà tutto ok trastero scusami non volevo offenderti non vedi che c'ha la skin di mita dorata per favore è vero è vero è vero stavigliamone chi è chi è il più importante qui oh no comunque rappresenta la piramida accesa che spara un raggio verso l'alto come se se si è richiamando la regina farà il richiamo del degli alieni degli alieni chiamerà tutti minuti e 40 ragazzi io ve lo dico ragazzi tutti ora chiamate tutti i vostri amici fateli vivere in live ci siamo in gran finale a due anni due due anni di distanza ci siamo mamma iniziando due anni fa non ero ne sento adesso sta qua c'è nel senso riasco a stare seduto ho troppa ansia ragazzi credo che credo che io mi muto e noi ci sentiamo direttamente a fine evento per le valutazioni finali si se volete restare con me voi ragazzi come volete bene ci sentiamo dopo ragazzuali ciao 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 ok allora quindi si vada solo io vado eh allora 3 2 1 ragazzi è il momento ci siamo è ufficiale un minuto alla fine del capitolo 2 sono passati quasi due anni quasi due anni da quando noi abbiamo iniziato a giocare insieme qui tutti quanti insieme abbiamo giocato a questo capitolo 2 c'è stata la season 2 con mida non so se ve la ricordate la season 3 con aquaman è successo davvero di tutto e ora siamo qui a chiudere il cerchio sono con Joe e Traster ciao ragazzi ciao ragazzi ciao 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 eccoci e ora il momento è arrivato io non riesco non riesco a stare tutto a mancia 15 secondi wow 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 15 secondi 14 mamma mia finita 12 è momento 15 10 è tutto vero ragazzi è il momento di dare addio al capitolo 2 e di salutare e dare il benvenuto al capitolo 3 3 2 1 si parte eccoci ok vai 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 gasati eh vi voglio proprio a voglia regina dei cubiride zitti tutti adesso eh zitti tutti sentiamo che dicono eccolo mamma mia cosa succede ok ok calmi ok cambia il colore sta attaccando sta arrivando la fine oh il cielo è diventato oscuro tutto si fa buio cosa sta succedendo ma le dobbiamo colpire penso di sì pariamo sì 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 prendo un dato ok 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 colpisci le ma stanno facendo un giro strano eh sì stanno tipo controllando sì stanno tipo girando tutto intorno alla mappa ma non possono entrare da noi perché noi siamo protetti da un grande cerchi sopra esatto oh mio dio guardate su guardate su stanno scendendo delle navicelle cosa sta succedendo ragazzi 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 mi sono stato un gigante proprio sopra tutte le navicelle assurdo è un mega è un mega cubo ciao ragazzi come va hanno rotto la barriera ok la barriera ufficialmente oh mi sa che ora siamo in pericolo mi sa che ora siamo in pericolo stanno attaccando tutto ok 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 ora bisogna arrivano due cubi arrivano ondate di cubi ragazzi mamma mia guardate oh ma ci sono i cubi cubi ci stanno circondando tutti i cubetti distruggete tutto figli miei vuol dire cosa no ragazzi è assurdo ma guardate quanti navicelle guardate ma guardate cosa sta uscendo stanno uscendo tutti i mega mega cosi giganti cosa vuol dire traster capisco l'ore avvicina di dove ah eccolo ah oh ma un gigante nessuna pietà eh eh uccidete i costi uccidete i costi ho paura quei mostri giganti forse ci dovremmo ci dovevamo allenare un po' forse al cuore fanno più danno si furdo ok calmi 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 dobbiamo riuscire a eliminarli dobbiamo salvare fortnite ricordatevelo facciamo fuori questi facciamogli vedere chissà mi hanno trovato l'arma mi hanno trovato l'arma e niente ce lo potevate dire che non potevamo farci nulla vero contro questa ragazzi ci c'è un po' aiutaci oh oh ci stanno killando tutti no 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 io scappo io sopravvivrò non me ne frega niente io sopravvivo sarò l'ultimo sopravvissuto in questo capitolo 2 di fortnite ok ok giù hai capito no non penso proprio ti distruggeranno proprio tutti oh oh succede ciao ragazzi come va ci state parlando via male matti ok allora adesso non si può più giocare siamo nel direttamente in una specie di film adesso cioè non so come chiamare una cosa del genere io una qualità di questo tipo poi no hanno distrutto a tutto l'ordine immaginario abbandonare la base a tutto l'ordine immaginario abbandonare la base sveglialo la dottoressa slova jonesy ecco jonesy dovevi proprio fare l'eroe jones non sai cosa succede agli eroi beh ecco sopravvivono e combattono ancora non stavolta no 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 non parlo cosa succede no oh qualcuno vada a vedere che succede sbaglio o le cose si stanno mettendo piuttosto male malissimo fondazione eccolo sta salvando jonesy penso sta salvando jonesy si 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 ecco lì si sono riuniti non ci credo non è vero non è vero no ragazzi non è vero questa è una presa in giro non so non è lui non capisco se è The Rock no ragazzi è The Rock è un The Rock un po' non è vero ragazzi non è The Rock non è lui no ragazzi è The Rock no non potevano è uguale è identico e lo so portarci dall'altra parte la voce no guarda lì è un film praticamente no assurdo stiamo vedendo un film assurdo assurdo rollo pollo lavora con l'epicchia devono invertire i tutti si disattivalo John si come bello e adesso vediamo ora che siamo ritornati fuori oh oh eh si looper abitati eccoli oh che sono sono più portanti in incontrazioni per il più alleati eh alla fine c'entrava davvero il bunker eh si è vero guarda 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 eccolo adesso quelli che sono scappati siamo praticamente noi giusto adesso ci hanno tipo salvati si si attenzione forse si rientra in gioco eh oh no ed eccoci ci siamo vedono un nullo stiamo letteralmente seguendo the rock per salvare il mondo su fortnite matti un salutone ciao lollo ma ti voglio dirti solo una cosa cosa eh lo so lo so rotazioni di 5 gradi ma cosa sta succedendo ma che bello è affucinante ok occhio ragazzi mi sta iniziando a girare un po' la testa devo essere eh si infatti di mare qua siamo sotto la mappa si 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 solo quel bus droga fortissimo sposta quel bus ok no no ragazzi dobbiamo seguirlo però io sono ultimo aiuto paura io sono primo adesso ti raggiungo ora ti raggiungo e andiamo correte 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 ok eccoci vabbè cosa è così proprio le porte vabbè però sta facendo tutto the rock dai noi non stiamo facendo niente oh uh scivolata eh scivolata ma che ma che ah oddio oh a me gira la testa e mal di mare si ha già messo l'animazione della scivolata si si è l'ultimo è fatta o johnsy o johnsy è quello è the rock non quello che stiamo seguendo noi non era drop si è vero si è vero è vero la voce è pure simile a quella di the rock ce l'hai fatta vi hai portato i looper abbiamo perso la superficie ma qui saremo al sicuro oh cosa sta succedendo ragazzi ci siamo preparateli tenetemi forte oh slurto ma ci dobbiamo tuffare perché oh lo so oh oh eh ragazzi abbiamo un piccolo problema a a ore 12 un piccolo grande problema matti ecco ecco è finita è finita oh ho già visto questo eccoci no wow eh siamo sott'acqua niente da fare guardate adesso emergiamo eccomi ah ho capito hai capito hai capito l'ho capito è proprio quella scena è proprio quella scena è proprio quella eccola eccola è questa diamo ufficialmente addio alla mappa del capitolo 2 di fortnite ciao mappa ciao è stato un piacere mi mancherai mi mancherà mi mancherà mio scolino mi mancherà brutus non mi mancherete ciao commovente però vero guardate lì se qua si piango oh non torna cosa c'è brutta però che ovviamente la parte brutta quando quando cade la mappa arriva esatto è finita non vorrei affogare ciao mappa è stato bello addio ciao mappa ciao ecco la nuova benvenuta è la nuova benvenuta mappa nuova ciao mamma mia ragazzi è allucinante sto vento oh ecco l'onda sapete nuotare voi io in realtà no voi ragazzi sta arrivando uno vicino via aiuto siamo vivi matti siamo vivi nooo non è vero non è vero non è così non mi dite che è così no ragazzi no 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 dove è il mio dove è il mio timer che mi dice non mi dice che non possiamo fare nulla è finito ragazzi di nuovo di parte 2 un dejavu un dejavu e adesso si si non ci devi credere e adesso ragazzi un salutare che fanno ragazzi mi avete fatto compagnia e vi ringrazio posso dire l'evento più bello di fortuna introdurre si si concordo è bellissimo ma una domanda si adesso rimarremo in lobby insieme per sempre per tutta la vita per tutto fino al capitolo 3 ragazzi è stato The Rock però io l'ho detto quasi scherzando non mi aspettavo che Fondazione si tirasse fuori la maschera e dicesse sono The Rock però l'ho fatto era uscito un spoiler che The Rock aveva la maschera di Fondazione però non pensavo che uccisse durante l'evento incredibile bellissimo incredibile voto Matti voto Lolo voto Traster allora io devo dire una cosa per la live più che altro c'è Joe con la doppia voce non riesco a toglierla è vero praticamente ce l'hai la cosa vocale attiva nel gioco ma non posso andare nel menu esatto non puoi disattivarla è vero gg gg ragazzi ma quanto è stato questo evento mamma mia wow stato davvero bello ma vogliamo parlare anche dei predict dei trailer che avevano azzeccato praticamente tutti vabbè Lolo Pollo ha vinto tutto con The Rock bello bello top valutazione bello ragazzi ragazzi non riesco a togliere Joe beh è stato bello ragazzi che voto gli date che voto gli date ragazzi devo uscire da porta io vedo io farei una una partita su Gartic Phone ragazzi io farei un applauso in chat siamo in 700 oh madonna mia ragazzi gg siete in 700 a vedere tutto quanto qui sul mio bellissimo computer che non mi funziona Fortnite che dire signori è tutto vero e ora ragazzi adesso bisogna fare una cosa molto importante andate tutti su Google scrivete briscola online e facciamo un torneo ma no ma anche no direi no ok vabbè ma anche no scusate scusate pensavo fosse un identità assurdo ragazzi comunque c'è da dire che è stato davvero incredibile mamma mia che poi è successo quasi tutto quello che ci aspettavamo e probabilmente c'è così tanta gente collegata in questo momento su Fortnite che non mi fa aprire Fortnite però mamma mia raga comunque per chi fosse entrato adesso e se l'è perso raga datemi tempo 10 minuti e trovate il video sul canale ciao Franci c'è il buco nero è allora buco nero cioè se intendete un un pollo su una zattera improvvisata sì c'è il buco nero nessuno però aveva pensato a una cosa del genere no no effettivamente no sapevo che veniva lo tsunami alla fine però non non che il buco nero fosse questo ma chissà dove ci ha portato l'onda beh che dire ragazzi in qualche modo dovremmo tornare andiamo sulla raga chissà cosa succederà chissà cosa succederà mamma mia mi state vedendo con questo faccione gigante per dirvi che sono senza parole senza parole posso dire anch'io posso dirlo anch'io ma era ufficiale The Rock sì cioè davvero lui sì sì era il vero The Rock era il vero The Rock era il vero The Rock cioè proprio così ce lo dice in questo modo The Rock probabilmente la skin di fondazione avrà lo stile di The Rock è a questo punto non lo so non lo so vedremo dai ci chiedono ci chiedono quanto durerà il tutto però vi faccio sapere tra 30 secondi invece sì ragazzi tanto Lollopolo collabora con Epic Games segretamente quindi aspettate vi dico subito se ho qualche novità comunque se volete continuare a guardare il mare non abbandonate Fortnite perché a me non si apre più no io non io non quinto io non quinto domani mattina mi voglio alzare e leggere capitolo 3 non succederà mai ma lo voglio no no non succederà mai in effetti in effetti non succederà eh almeno due giorni comunque qui in chat continuano a spammare rosso raga non credo non credo basta raga mamma mia ciao Matteo ciao Zai ciao Vose ciao Marco mi mancherà questa mappa ma in realtà no raga cioè è crashato Epic Games non si apre proprio più Epic Games non solo Fortnite ora pensate quanta gente è connessa mamma mia wow che dire sappiamo però un piccolo spoiler non lo possiamo dire vai vai il nome della mappa della sigla del capitolo 3 Artemis Artemis davvero si chiamerà così? si ok non so quanto perché? eh? perché si chiamerà così? eh non lo so si chiamerà Artemis Artemis ok ragazzi vogliamo fare una mettere su Gartic Phone ah intanto che i spettatori qua salgono io sto ridendo il video cioè non non so neanche calcolando la però ti cazzo sto in live a me è venuta in mente una cosa cosa? venuta in mente una cosa ecco cosa? vediamo se c'è già l'evento perché voglio andare a rivedermi la parte finale vediamo un po' se c'è stato caricato su youtube allora ve lo dico comunque te lo dico Marti se il trailer che abbiamo visto un botto di tempo fa quindi tipo una settimana fa non mi ricordo quando era cinque giorni fa ok era reale cioè è stato così che la mappa sia girata che abbiamo visto quelle robe esplodere secondo me automaticamente quello che abbiamo visto oggi è super vero in che senso quello che abbiamo visto oggi? quello del trailer polacco deve essere super vero per forza eh sì 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 ma si vedeva che era vero dai infatti e molti 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 dubitavano no no si vedeva che era vero si vedeva sì raga è finito voi guarderete questa schermata per tante ore è beati voi che la potete vedere a me non fa entrare più nel gioco quindi non posso vedere neanche io che che fluttuo nel nulla nell'acqua vabbè raga eh anche a me è successo come mai Simone eh cioè pure tu stai bloccato in una zattere a mezzo al mare eh pensavo solo io dai rip che dire ragazzi io vi saluto è stato divertente dai e ci vedremo spero presto dipende ovviamente da fortnite un saluto a Veronica Elaria Roberto Teresa Andrea e che dire adesso noi saremo qui in acqua a girare fino a non si sa quanto e poi inizierà ufficialmente il capitolo 3 di fortnite ciao ciao ragazzi e